seconda corsa premio Ilion Mir stavolta sono in sulchi gentleman una corsa per quattro anni non vincitori di ventunmila euro in carriera un po' di ritardo alla partenza qualche concorrente in ritardo vediamo ora con down già finito da un pochettino ora si accendono le luci uno Angel Cash Alfredo Galeazzi due Axel Rec Leonardo Vastano tre Akiko Font Guido Gnoffo quattro Arriba Arriba Fii Marco Scarton cinque Alice Piz Johnny Pizzolato sei Azzurra Pisana Thomas Manfredini in seconda fila sette Ariel GSO Jessica Pompa mentre rimane nel box Giulianova ritirata vediamo un po' tardato Azzurra Pisana non sono ancora rete i numeri bassi Angel Cash e Axel Rec stacco della macchina su dunia linea Akiko Font Arriba Arriba Fii e Alice Piz cerca di sistemarsi secondo Marco Scarton con Arriba Arriba Fii ma gli rientra Angel Cash lungo la corda intanto davanti è Akiko Font con Alice Piz che insiste a largo cerca di farci quantomeno il posto Johnny Pizzolato intanto 14.1 manovra che riesce quindi Alice Piz si sistema a seconda la corda davanti ad Angel Cash poi dietro Ariel GSO mentre vediamo rimasta di fuori Arriba Arriba Fii 400 in 28.7 ritmo svelto intanto c'è l'errore di Azzurra Pisana numero 6 Azzurra Pisana squalificato dobbiamo prendere la via del largo anche Axel Rec partito piano intanto arriviamo ai 600 metri in 44.2 ritmo ancora abbastanza sollecito da parte dell'allievo di l'allieva di Guido Noffo che conduce fin dalla partenza con in schiena Alice Piz di fuori scoperta Arriba Arriba Fii seguita da Axel Rec poi lungo la corda Angel Cash 59.6 con il primo giro 14.8 la frazione qui davanti alle tribune con sempre in controllo Guido Noffo con la figlia di Pitagora B Akiko Font che arriva al chilometro in 1.14.5 ora la femmina lunga sempre seguita dal numero 5 di Alice Piz poi vediamo Angel Cash in terza posizione mentre prova l'avanzata Axel Rec ma Kiko Font ancora buon vantaggio su Alice Piz e Angel Cash che sono quelli più tonici mentre si è un po' fermato lì lo spunto di Axel Rec siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione si gira Guido Noffo ma non vede arrivare nessuno 15.3 l'ultima curva retta d'arrivo Akiko Font in netto vantaggio su Alice Piz che deve difendersi dall'attacco interno di Angel Cash ma Akiko Font viene a vingere su Angel Cash che batte Alice Piz 1.14.6 la media al chilometro per Akiko Font la figlia di Pitagora B del signor Guido Noffo il training di Edoardo Alessandro Baldi che vengono a vincere in percorso di testa alla quota di 2.98 che vengono a vincere Grazie a tutti